Il prossimo anno inizierò a studiare il cinese. Non so se lo farò davvero, ma non è questo l'argomento di oggi. Nella lezione di oggi vorrei parlarti di alcuni usi particolari e molto originali del futuro semplice in italiano. In queste frasi l'uso del futuro è chiaro, no? Identifica un'azione nel futuro. Ma non è sempre così in realtà. Vediamo perché. Anche per questa lezione, attraverso il link che trovi nella descrizione qui sotto, potrai scaricare un documento PDF con tutto il contenuto del video e con gli esempi che vedremo insieme. Clicca sul link qui sotto per riceverlo gratuitamente e in pochi minuti direttamente nella tua casella di posta. Ma vediamo quali sono questi usi così particolari del futuro semplice in italiano, che poi si riflettono anche nel futuro anteriore, ma lo vedremo in un altro video. Guarda queste frasi. Hanno bussato alla porta. Chi sarà? Ma sarà il ragazzo che consegna le pizze? Le abbiamo ordinate per quest'ora, no? Giulia non c'è. Sarà al supermercato. Perché abbiamo usato i verbi al futuro qui? Che cosa identificano? Identificano azioni o eventi nel futuro? No, siamo di fronte al futuro epistemico o ipotetico. Identificano un dubbio o una supposizione nel presente. Chi sarà alla porta? Chi può essere? Ma sarà il ragazzo che consegna le pizze? Probabilmente è il ragazzo che consegna le pizze. Giulia sarà al supermercato. Probabilmente è al supermercato. Vedi come i verbi al futuro semplice identificano una supposizione o un dubbio nel presente. Quanti anni avrà Luciana? Bah, non è vecchia. Ne avrà 55 o 60. Probabilmente ne ha 55 o 60. Questo era il primo uso particolare del futuro semplice. Ma adesso leggi questa frase. Paolino sarà anche simpatico, ma è un testone. È impossibile insegnargli qualcosa. E in questo caso, che cosa identifica il verbo al futuro semplice? Perché lo usiamo qui? Si tratta del futuro concessivo. E se rileggi questa frase, effettivamente noi facciamo una concessione. Ammettiamo che una cosa è vera, ma ne prendiamo le distanze e aggiungiamo un'altra informazione che contrasta con la prima. Paolino sarà anche simpatico, è vero, lo devo ammettere, ma è un testone. Vedi come con il verbo al futuro facciamo una concessione. Ammettiamo che qualcosa è vero. Quel vestito sarà anche elegante, ma quel colore stufa prima o poi, stanca prima o poi. Vedi come spesso, in questo caso, il verbo è accompagnato dall'avverbio anche, o dall'avverbio pure, che ha lo stesso significato. Sarà anche elegante, ammetto. È vero, è elegante, ma quel colore stanca, eh, prima o poi. Quel candidato parlerà pure dieci lingue, ma questo non significa che sia adatto alla posizione. Ok, accetto e ammetto che parla dieci lingue, ma questo non significa che sia adatto per la posizione. E vediamo il terzo uso speciale del futuro semplice. Guarda questa frase. Ammetterete che questo video è molto utile per parlare italiano in modo naturale. Ammetterete che. Perché sto usando il verbo al futuro? Qual è la sua funzione nascosta qui? Ammetterete che questo video è molto utile. Questo è un caso che spesso si confonde anche con i casi precedenti. Si tratta del futuro attenuativo. Attenuare in italiano significa rendere più debole, meno brusco, mitigare qualcosa. E il verbo al futuro mitiga un'affermazione. Un'affermazione che diciamo a qualcun altro o a noi stessi. Ammetterete che questo video è molto utile. Io avrei potuto dire, ammettete che questo video è utile. Ditemi che questo video è utile. Dovete dirmelo. No, ammetterete che è molto utile. Eppure, questo esame è andato, non dirò in modo disastroso, ma neanche molto bene. Anche qui voglio mitigare, attenuare un'affermazione. Non dico che è andato in modo disastroso, ma neanche bene. Non dirò che è stato disastroso, ma non è andato bene. Signor Perry, le dirò, sua figlia non va così male a scuola. In questo caso stiamo dando un'informazione positiva al signor Perry. E quindi perché abbiamo la necessità di attenuare e mitigare l'affermazione? È positiva l'informazione. Beh, perché comunque stiamo dando un'informazione che contrasta con l'aspettativa del signor Perry. Il signore è convinto che sua figlia sia un disastro a scuola e noi gli stiamo dando un'informazione positiva, ma opposta, contraria alla sua aspettativa, e quindi mitighiamo. Le dirò che sua figlia non va così male. È una frase sicuramente più delicata, anche più gentile. Conoscevi già questi tre usi particolari del futuro in italiano? Ti va di scrivere delle frasi qui sotto nella sezione dei commenti per provare ad usarli? Ti ricordo che sotto a questo video troverai anche un link per scaricare il documento PDF all'interno del quale potrai rivedere il contenuto di questa lezione, con tutti gli esempi che abbiamo visto insieme. Grazie per la tua compagnia e ci vediamo al prossimo video! Grazie per la tua compagnia e ci vediamo!